Oggi Pallavogliamo.it festeggia un gradito ritorno, qui vicino il grande Ale Breda. Ciao Ale, come stai? Bene, grazie, mi sono ripreso abbastanza bene dopo gli ultimi mesi e devo dire che sono veramente contento di essere qua questa sera fra amici. Ecco, allora bentornato e buon lavoro, adesso ti vogliamo vedere all'opera. Grazie.